Ho capito la prescia da 43 anni, raga, è arrivarci io a 43 anni, così. Buongiorno a Lino, Sussi Atturo! Mark Belleware! La medaglia di prescia alle finali del World Tour è della Carpeggia! La medaglia di prescia alla Carpeggia! Grazie a Jacobo e Caleb Crabb in una 피nale del Tournament! E Andi Moore, Christian Soro! Andi Moore, Christian Soro!